Rieccoci su Sicilia 24, ben ritrovati, apriamo questa nuova edizione di Spazio Notizia parlando della guerra in Ucraina, andiamo a vedere gli ultimi aggiornamenti, ci sono delle importanti dichiarazioni da parte del presidente russo Vladimir Putin, tutti i tentativi di cancellare la nostra cultura, di cancellare la Russia sono inutili, ha detto Putin, questo è semplicemente stupido e quelli che la pensano diversamente, ha aggiunto, sfortunatamente per loro non hanno imparato le lezioni della storia, ha dichiarato Putin, il quale ha poi accusato gli Stati Uniti non solo di voler prolungare il conflitto in Ucraina e di usare gli ucraini come carne da cannone, ma anche di cercare di destabilizzare la situazione globale con la visita della speaker della Camera Nancy Pelosi a Taiwan. Gli Stati Uniti, ha affermato Putin, vogliono estendere il conflitto in Ucraina, i paesi occidentali vogliono estendere l'influenza della Nato, ha dichiarato il presidente russo. Intanto sono due milioni le persone costrette a lasciare l'Ucraina per sfuggire alla guerra, le cifre comunicate dall'alto commissario ai rifugiati delle Nazioni Unite, Filippo Grandi, fotografano drammaticamente le conseguenze dell'invasione del paese da parte della Russia. In pratica quasi il 5% dei 44 milioni di abitanti ha dovuto fuggire all'estero, tra questi ci sono centinaia di migliaia di bambini, molti dei quali sono stati separati dai genitori. Andiamo argomento adesso, andiamo a vedere i dati dell'ultimo bollettino Covid, diramato dal Ministero della Salute, quindi bollettino che si riferisce alla giornata di ieri. Sono 818 i nuovi casi di Covid registrati in Sicilia a fronte di 6.540 tamponi processati. Dunque i nuovi casi, come vedete, continuano a diminuire, questo è certamente un dato molto importante. Il tasso di positività in Sicilia è al 12,5% con la Sicilia al sesto posto in Italia per numero di contagi. Gli attuali positivi sono 112.812 i guariti, invece 821. Purtroppo si registrano tre vittime che portano il totale dei decessi in Sicilia dall'inizio della pandemia, a 11.903. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 692, 17 in meno rispetto al giorno precedente. In terapia intensiva sono invece 32, uno in più rispetto al giorno prima. Per quanto riguarda infine i dati a livello provinciale, stavolta è Palermo, la provincia con il maggior numero di nuovi casi, 190. Poi Catania con 183, quindi Messina con 146 nuovi casi Covid e poi le altre province con dati decisamente più bassi. Questo dunque l'ultimo bollettino diramato dal Ministero della Salute, poi quando in giornata usciranno i dati di oggi, i dati odierni, chiaramente ve li daremo nel corso delle nostre edizioni serali di Spazio e Notizia. Ed ora l'emergenza migranti che resta in primo piano con la situazione sempre complicata di Lampedusa, resta come detto l'emergenza nell'hotspot di Contrada in Briacola nonostante i trasferimenti effettuati negli ultimi giorni. L'ultimo è stato ultimato ieri con 430 migranti trasferiti a Mazzara del Vallo. Di questi 430 migranti, 60 sono richiedenti protezione internazionale e per loro si profila un nuovo trasferimento stravolta però in strutture della Nord Italia. Ma in questo gruppo di migranti ci sono anche 59 minorenni non accompagnati, i quali verranno affidati a strutture per minori. Altri 94 invece sono soggetti già foto segnalati a Lampedusa e quindi destinati all'espulsione dal paese. Insomma un grande lavoro per i funzionari dell'ufficio immigrazione della questura di Trapani, mentre l'emergenza come detto resta sempre alta a Lampedusa dove la struttura rimane ancora piena, la struttura di Contrada in Briacola, l'hotspot rimane pieno nonostante i trasferimenti di questi giorni. Ed ora parliamo di terremoti perché la terra in Sicilia è tornata a tremare, è successo ieri nella giornata di Ferragosto alle 8.41, è stata infatti registrata una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 a Naso, siamo nella Messinese, con l'epicentro registrato nei pressi nell'omonimo torrente del torrente di Naso. Il sisma è stato localizzato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma. La scossa è stata avvertita dai cittadini di Naso ma anche da chi si trovava in quel momento a Ficarra, Brolo, Castellumberto e Piraino. Fortunatamente non si registrano danni a persone o cose. Cambiamo adesso argomento, parliamo di altri incidenti mortali, ancora sangue sulle strade siciliane, due stavolta le vittime. La prima è una donna di 70 anni, Pasqua Torre, questo il suo nome, la quale è morta la scorsa notte in un incidente stradale avvenuto a Castro Reale nel Messinese. La donna era seduta sul lato passeggero di un'auto guidata dal marito. Il mezzo ha urtato contro una cabina della centralina del Metano finendo poi in una scarpata. Non c'è stato purtroppo nulla da fare per la settantenne deceduta sul colpo mentre il marito è stato trasportato all'ospedale Fogliani di Milazzo e ha avuto una vertebra rotta. Queste le sue condizioni che dunque non sono gravi. I rilievi sono stati svolti invece dai carabinieri. Un altro incidente mortale è avvenuto la scorsa notte a Palermo. La vittima è un uomo di 47 anni che viaggiava a bordo di una moto e che si è scontrato con un'automobile alla Daura. Il motociclista è stato soccorso dai sanitari del 118 ma è morto poco dopo. Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato e quelli della Municipale. Le indagini sono condotte dalla sezione infortunistica dei vigili urbani. Un'altra tragedia è avvenuta invece a Mondello, in questo caso non in strada ma in mare. La vittima è un uomo di 71 anni, Francesco Paolo Labarbera, il quale è morto ieri mentre stava facendo il bagno a Mondello. Mondello la conosciamo tutti e c'è una nota frazione marinara di Palermo. L'uomo si trovava in acqua insieme alla nipotina di 10 anni per un bagno quando ha accusato all'improvviso un malore. I sanitari del 118 hanno provato in tutti i modi a rianimarlo, lo hanno fatto per diversi minuti ma purtroppo per il 71enne non c'è stato nulla da fare. La Salma, dopo l'esame del medico legale, è stata restituita alla famiglia per celebrare i funerali. Restiamo nel Palermitano per parlare invece di un incendio, incendio divampato a Trabia dal luna della scorsa notte. Pensate, continua a bruciare la contrada Danigarci, una contrada, una zona ricca di vegetazione, ad alimentare le fiamme e il vento di scirocco e sono minacciate anche alcune abitazioni. Da questa mattina all'alba sono in azione i Canadair per cercare di spegnere il rogo sulla sommità del costone che da terra è inaccessibile. Sono impegnati vigili del fuoco forestale e protezione civile che hanno cercato in tutti i modi di arginare le fiamme e mettere in sicurezza le abitazioni. Ci spostiamo virtualmente nella Catanese per la precisione a Nicolosi per parlare di un salvataggio effettuato dai militari del soccorso alpino, della guardia di finanza di Nicolosi, i quali sono intervenuti per soccorrere una turista di nazionalità francese. Lo hanno fatto insieme al personale del corpo nazionale soccorso alpino e speleologico. Una signora francese, dicevamo, nel corso di un'escursione era caduta su un terreno accidentato provocandosi una trauma all'articolazione del ginocchio destro che le impediva di proseguire autonomamente. La donna è stata poi trasportata presso il rifugio Sapienza dove ad attenderla c'era un'autoambulanza condotta dai sanitari del 118 che l'hanno invece trasportata presso l'ospedale più vicino per tutte le cure del caso. Torniamo adesso a Palermo, continuiamo a parlare di cronaca e nello specifico dell'arresto di due rapinatori. I carabinieri della stazione Crispi hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal Tribunale di Palermo su richiesta della competente Procura della Repubblica nei confronti di un 37enne e un 33enne rispettivamente destinatari della custodia cautelare in carcere e degli arresti domiciliari per aver concorso in una rapina aggravata commessa nel quartiere Libertà. I fatti, secondo il quadro indiziario raccolto dai carabinieri nel corso dell'attività e sostanzialmente accolto nel provvedimento cautelare, risalgono al 21 maggio scorso alle ore 23 circa quando i due indagati hanno prima chiesto con insistenza le lemosina ai clienti di un ristorante di via Siracusa e poi hanno raggiunto e bloccato in una via poco distante una coppia appena allontanatasi dal locale per rinnovare la richiesta di denaro, questa volta però proferendo delle minacce. Il 37enne, appena il ragazzo intimorito dalla condotta dei due ha estratto il portafogli, lo ha afferrato ma vista la resistenza opposta dalla vittima ha ingaggiato con questa una breve colluttazione causando la rottura del portafogli a metà e riuscendo quindi a scappare unitamente al complice intento nel frattempo a controllare che non arrivassero le forze dell'ordine. Le successive indagini condotte dai militari hanno consentito di ricostruire dettagliatamente la vicenda attraverso le dichiarazioni delle vittime e l'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza del ristorante e dislocati lungo il percorso. Determinante per l'identificazione del 33enne è stato un controllo di polizia operato da una pattuglia dello stesso commando che il 5 giugno successivo avendo riconosciuto il soggetto ritratto nei filmati visionati lo ha affermato mentre era parzialmente vestito come il giorno della rapina. Il 37enne invece è stato di recente tratto in arresto in flagranza per due rapine, una perpetrata il 5 giugno con lo stesso modus operandi poiché al rifiuto degli avventori di un ristorante di consegnargli il denaro ha afferrato una sedia e si è momento di distrazione e riuscito a portar via il portafogli della vittima venendo però prontamente bloccato dai militari di pattuglia della stazione Crispi. La seconda nella notte dello scorso 3 luglio sventata dai carabinieri del nucleo radiomobile di Palermo in cui in più occasioni nel corso della notte aveva fatto ingresso in un hotel minacciando gli addetti alla reception per farsi consegnare il denaro e addirittura sedendosi alla loro postazione e impugnando un paio di forbici. A quest'ultimo il provvedimento è stato notificato presso la locale casa circondariale dove era recluso in conseguenza dell'udienza di convalida tenutasi dopo l'arresto del 3 luglio. Ci spostiamo adesso a Trapani dove sono stati sanzionati un ristorante e diverse imbarcazioni, vediamo perché. I carabinieri della motovedetta d'altura 811 Pignatelli dipendente dal comando Compagnia di Trapani in concomitanza con la maggiore presenza di turisti e di conseguenza dell'aumento della richiesta di prodotti ittici per la ristorazione e il traffico marittimo hanno ulteriormente intensificato i servizi di controllo delle zone costiere. In particolare nel corso di un mirato servizio di polizia marittima finalizzato alla prevenzione degli illeciti alimentari nella filiera ittica e al codice della navigazione i carabinieri hanno accertato l'acquisto di prodotti ittici privi di etichettatura per la tracciabilità effettuato dal titolare di un'attività di ristorazione sull'isola di Marettimo. Date le circostanze sia il titolare del ristorante che il comandante dell'imbarcazione sulla quale è stato trasportato il pescato non etichettato sono stati raggiunti da una sanzione amministrativa di 1.500 euro ciascuno per violazione dei precetti normativi relativi alla tracciabilità volti a tutela della salubrità del prodotto e della salute dei consumatori. Nello stesso contesto operativo i militari dell'arma hanno elevato ulteriori cinque sanzioni amministrative a carico di altrettanti soggetti per complessivi 1.070 euro a seguito dell'accertamento di varie violazioni del codice della navigazione. Con questa notizia ci fermiamo ma ci ritroviamo più tardi su Sicilia 24 per una nuova edizione di Spazio Notizia. A dopo. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS